Hai dormito questa notte? Vabbè, ieri ci siamo riuniti, quindi comunque abbiamo fatto un po' tardi, però sì, abbastanza tranquilli per la prima prova. Dobbiamo vedere stasera se riusciamo a dormire per la prova di matematica, che preoccupa un po' di più tutti quanti. Hanno avuto inizio gli esami di maturità per circa 4.000 studenti erpini che hanno affrontato la loro prima prova, quella di italiano. Fiatto sospeso fino a quando i presidenti delle commissioni hanno dettato loro le tracce messe a disposizione del MIUR da svolgere solo con il dizionario di italiano. I temi appunto da svolgere hanno riguardato l'analisi del testo, natura robotica, disastri e ricostruzione. Molta tensione per l'analisi del testo, mentre sono state ritenute più fattibili tutte le altre tracce. Gli studenti hanno a disposizione sei ore, ma possono consegnare anche dopo tre ore. L'attenzione degli studenti si è allentata non appena sono venuti a conoscenza della prova. Mattinata dunque trascorsa senza intoppi per le commissioni che da ieri si sono insediate ufficialmente. Domani un'altra prova da affrontare, quella di matematica, poi il 26 il quizone. Quest'anno per la matematica c'è una novità. Praticamente per la prima volta i ragazzi potranno usare una calcolatrice grafica, però non programmabile, non praticamente collegabile ad internet. Ed è una novità, infatti già oggi i ragazzi dovranno portare a scuola la calcolatrice che intendono usare, perché noi commissione possiamo valutarne l'utilizzo per domani. A tutti gli studenti sono andati gli auguri della ministra dell'istruzione Valeria Fedeli, che li ha invitati a seguire le indicazioni della campagna lanciata dal ministero, che attraverso una serie di video e post pubblicati sui social sta accompagnando i maturanti con consigli e spiegazioni, il comportamento più idoneo da adottare.